La carità rinnovata in cattedrale A Pergola celebrata la giornata del ringraziamento Conclusa il centro pastorale l'assemblea diocesana delle carità sparrocchiali Don Raffaele Mazzoli fondatore e direttore merito del settimanale interdiocesano Nuovo Amico è tornato alla casa del padre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne a Fano e il consiglio comunale monotematico Inaugurata la nuova sede della Conf Commercio Fano Unità di strada sociale, l'attività a favore degli adolescenti e dei giovani Ben trovati a questa edizione del TG Web Edizione che apriamo questa settimana con il rinnovo delle promesse diaconali in cattedrale Sabato 23 novembre infatti i diaconi della nostra diocesi si sono ritrovati intorno al vescovo per rinnovare le promesse diaconali La sera della festa di Cristo Re è stata volutamente scelta dai diaconi per rimarcare che l'essere re nella logica di Dio È mettersi all'umile servizio dei fratelli con amore pieno e totale Aspetto ripreso dal vescovo nella sua omelia Purtroppo ha proseguito il vescovo, la croce fa paura, siamo più portati a seguire chi ha successo nella vita e nella politica Ma anche nella chiesa quando scendiamo a compromessi con il mondo e il potere umano Gesù invece ha scelto di farsi schiavo degli uomini Ma in questa schiavitù ha impresso nella storia umana l'impulso più grande di libertà Ecco che allora il diacono è colui che restituisce alla chiesa la verità sulla fede Colui che dice ancora alla chiesa che la via della gloria è solo la via della sconfitta Colui che dice alla chiesa che è solo e sempre serva dell'amore Rimaniamo sempre in cattedrale dove venerdì 22 novembre il vescovo Armando ha preseduto la Santa Messa In occasione della Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri Siate modelli perché avete un ruolo pubblico ma nel contempo vicini alla gente Parte della città, soprattutto nei piccoli centri Lì dove portate ordine pubblico e in quelle terre che vivono devastazione di tragedie e di calamità naturali Queste le parole del vescovo Armando nell'omelia della Santa Messa in cattedrale In occasione della Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri Alla quale hanno preso parte autorità civili e militari Compresi numerosi sindaci del nostro territorio Il vescovo ha sottolineato in particolare due aspetti L'amore per la polis e la paura Amore per la polis, libera e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita pubblica Amore e non paura La paura, il risentimento, il disprezzo talora dominano il linguaggio e la vita pubblica Quanti toni amplificano le paure Quando si diffonde la paura in modo incontrollabile L'amore per la polis può venire manipolata e travolta I tempi difficili, ha proseguito il vescovo Armando Richiedono coraggio, idee nuove, visioni nuove In tempi difficili bisogna ritrovare la strada per rimettere in circolo idee forti Un'utopia ragionevole, mettere a fuoco uno spiraglio positivo Rimettere al centro le persone, ritrovare idee e comportamenti degni di essere umani Un momento, quello della celebrazione della Virgo Fidelis Che raccorda la presenza di tante istituzioni Uomini e donne che non si risparmiano nella tutela delle comunità civili Sempre pronti al dovere, sacrificando la propria vita e le proprie famiglie Perché quando avete giurato fedeltà allo Stato, ha proseguito il vescovo Avete giurato fedeltà a una nuova famiglia Da amare e tutelare, difendere sempre Infine, un augurio a tutte le autorità presenti, quello di impegnarsi per migliorare le realtà locali Al termine della celebrazione eucaristica, la lettura della preghiera del carabiniere Da parte del capitano Luigi Grella, comandante del nucleo operativo Radiomobile Il comandante della compagnia dei carabinieri di Fano, Maximiliano Papale Ha ricordato la nascita di questa celebrazione E ha ringraziato il vescovo per la costante vicinanza Rivolto un pensiero particolare ai caduti, agli orfani e alle loro famiglie Al vescovo è stata donata, infine, un'opera dell'artista Francesco Paoletti A ricordo della giornata Domenica 24 novembre a Pergola si è tenuta la tradizionale giornata del ringraziamento I particolari nel prossimo servizio Appuntamento tradizionale della Col di Retti Provinciale Per la giornata del ringraziamento Che quest'anno si è tenuta domenica 24 novembre a Pergola Nell'omelia della Santa Messa, celebrata nella concattedrale Il vescovo Armando ha sottolineato come la presenza di un'azienda In un contesto rurale sia la garanzia di avere una sentinella Che si prende cura di quel territorio Bisogna sostenere, ha affermato il vescovo Chi ha il coraggio di scommettere sulla terra Per il benessere proprio e della comunità Il fatto che ci siano giovani imprenditori agricoli Ha aggiunto il vescovo Armando Che ritengono fondamentale il benessere della collettività È il più grande messaggio di speranza Che il nostro paese possa accogliere È stato richiamato poi il messaggio Per la 69esima giornata nazionale del ringraziamento Messaggio che sottolinea il forte legame Tra il pane e il lavoro Richiamando il valore dell'eucaristia Il doveroso rispetto della terra E la difesa della biodiversità La necessità di garantire condizioni giuste Ed equa remunerazione Evitando ad esempio le forme di caporalato Di lavoro nero O di corruzione per chi lavora Al termine della celebrazione eucaristica La benedizione agli agricoltori E i mezzi agricoli utili al loro prezioso lavoro Ci spostiamo ora al centro pastorale diocesano Dove giovedì 21 novembre Si è tenuta l'Assemblea diocesana Delle Caritas parrocchiali La speranza dei poveri non verrà mai delusa Questo è il tema che ha fatto da filo conduttore Giovedì 21 novembre All'Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali Assemblea introdotta dalla preghiera E dalla riflessione guidate Dall'assistente spirituale di Caritas Don Michele Giardini Riprendendo il tema della giornata mondiale dei poveri Don Giardini ha messo in evidenza Come le speranze che non vengono deluse Sono quelle autentiche Quelle in grado di costruire il futuro Il Vescovo Armando Presidente della Caritas diocesana Si è soffermato in particolare Sul lavoro degli operatori Caritas Che è soprattutto vocazione Non dobbiamo sentirci mai dai manager della carità La parola poi al direttore Angelo Farnetti Senza la vostra presenza Non solo qui oggi Ma nella quotidianità a servizio dei più bisognosi Anche l'annuncio del Vangelo rischia di essere incompreso Perché l'amore non vive solo di parole Ma di innamorati Farnetti ha illustrato alcuni degli obiettivi Che la Caritas diocesana persegue Avendo come guida il modello della sinodalità Ci stiamo muovendo in integrazione Con gli altri uffici diocesani Perché vorremmo conoscere sempre più ravvicino la realtà Sensibilizzare e aiutare la comunità diocesana A uscire verso le periferie Formare il volontariato Rispondere con i fatti al grido dei poveri Che arriva ai nostri centri di ascolto Senza trascurare l'educazione della pace Alla sobrietà e alla solidarietà Impegnandoci a denunciare le ingiustizie E a collaborare con le istituzioni E con le altre associazioni cooperative del territorio Dopo lo spazio dedicato ai laboratori Le conclusioni sono state affidate a Loredana Filippini Responsabile area promozione Caritas Viviamo in un tempo in cui è importante raccontare il bene che esiste Ha sottolineato la Filippini Perché si sta rifondendo una cultura del sospetto e della paura dell'altro Dove spesso chi fa qualcosa per gli altri È oggetto di sospetto e maldicenza Riguardo al fatto che comunque Fa ciò per un suo tornaconto e per guadagno Raccontare il bene è un modo per diffondere la cultura del bene E questo è carità Ora Pesaro per parlare di un lutto Che ha colpito il mondo del giornalismo E non solo Si è spento all'età di 96 anni Don Raffaele Mazzoli Giornalista e direttore merito del settimanale interdiocesano Il nuovo amico che aveva fondato nel 1972 E che ha diretto fino alla fine del 2017 Nel suo lungo servizio sacerdotale Aveva ricoperto numerosi incarichi Ed era stato inoltre cappellano del carcere minorile di Pesaro E insegnante all'istituto agrario Cecchi Aveva fondato il Cineforum di Pesaro Era stato direttore dei beni culturali dell'Arcidiocesi Curando in questa veste numerose importanti mostre civiche Negli anni 60 era stato anche corrispondente per l'Avvenire d'Italia Le eseque sono state celebrate in Duomo E dall'Arcivescovo di Pesaro Monsignor Piero Coccia Un silenzio estremamente eloquente Quello degli studenti degli istituti superiori fanesi Che venerdì 22 novembre Alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna Hanno preso parte insieme alle autorità civili e militari del territorio Al Consiglio Comunale monotematico In occasione della giornata internazionale Per l'eliminazione della violenza sulle donne Tanti i momenti toccanti della mattinata Cominciare dalla lettura del lungo elenco Delle vittime di femminicidi avvenuti nel 2018 Una strage che non conosce età né provenienza Un elenco che come hanno ribadito più volte i ragazzi Deve davvero finire Fino al commovente monologo intitolato Filippo Scritto da Betta Cianchini e interpretato magistralmente da Federica Quaglieri Gli studenti hanno seguito le parole del monologo Con grande attenzione e partecipazione emotiva Alla mattinata introdotta dalla Presidente del Consiglio Comunale Carla Cecchetelli è intervenuto anche il sindaco Massimo Seri Troppi episodi ha affermato il sindaco Riempiono le cronache quotidiane Questo non possiamo più permetterlo O peggio ancora giustificare una violenza su una donna Non abbiate paura ha detto ai giovani il sindaco Di mostrare il volto dolce e sensibile La vera forza è il dialogo Il rispetto Il valore di comprendere e capire l'altro Martedì 19 novembre è stata inaugurata la presenza del Vescovo Armando La nuova sede della Confcommercio di Fano Taglio del nastro martedì 19 novembre Per la nuova sede della Confcommercio di Fano In via Francesco D'Assisi 41 Alla presenza del Presidente della Confcommercio di Pesaro Urbino Angelo Serra Del Direttore Amerigo Varotti Della Presidente di Confcommercio Città di Fano Barbara Marcolini Dell'Amministrazione Comunale Dei Vice Presidenti Martina Carloni, Luciano Cecchini E delle autorità militari del territorio A benedire i nuovi locali più ampi e più funzionali Il Vescovo Armando Il vostro compito esordito il Vescovo È quello di accompagnare, custodire e difendere Un compito di vicinanza alla città Vi chiedo quindi di aiutare il commercio E di difenderlo quando è necessario Accompagnandolo con il buon senso Con una certa cultura in questo ambito E con lungimiranza Nel nostro approfondimento oggi parliamo di un'iniziativa Di un progetto Dell'Unità di Strada Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale 6 È un progetto rivolto in particolare ai giovani In fascia di età 11-15 anni Si parla di Social Room E per fare questo abbiamo qui con noi Laura Isidori Andrea Pasquini Buongiorno Buongiorno Che sono psicologi, psicoterapeuti E operatori dell'Unità di Strada Sociale Dell'Ambito Territoriale Dunque innanzitutto Andrea Dici che cos'è questa Unità di Strada Sociale Di che cosa si occupa Che attività fate Allora l'Unità di Strada Sociale È composta da 4 operatori Siamo 4 psicologi E operiamo sul territorio dell'ambito Quindi da Fano fino a Pergola Dal 2013 Abbiamo avuto un momento di stop Con dei problemi relativi all'ambito Ma poi abbiamo ripreso con più continuità nel 2017 E adesso stiamo riuscendo a fornire un servizio Veramente valido e continuativo sul nostro territorio Gli interventi si sviluppano nelle scuole Per sensibilizzare i ragazzi E far conoscere i temi delle dipendenze più in generale Quindi il più degli interventi lo svolgiamo nelle scuole medie Dove parliamo di dipendenze tecnologiche Che in questo momento sono fortemente Da social diciamo Sentiti, esatto E in più strutturiamo dei laboratori pomeridiani Sempre su tutto il territorio Dove negli anni abbiamo svolto Corsi per diventare youtubers Social room Tornei di street soccer Laboratori di street art Con ragazzi della fascia di età Come dicevi tu Dagli 11 Ma siamo arrivati anche ai 18-20 anni Per quanto riguarda i laboratori di street art E come rispondono i ragazzi, le scuole A queste vostre proposte, iniziative? Le scuole sono particolarmente contente dei nostri interventi Perché ci considerano una risorsa valida Essendo poi degli psicologi giovani Riusciamo ad avere anche un impatto con i ragazzi Diciamo di vicinanza Conosciamo alcuni dei temi che per loro sono importanti Così come i videogiochi, i social network Seguiamo dei corsi di formazione costantemente Ben impostati con dei professionisti Tra i migliori a livello internazionale Per cui sono dei temi che conosciamo bene I ragazzi nei laboratori partecipano Abbiamo riscontrato delle diversità Il territorio non è proprio del tutto omogeneo Per cui mentre Fano offre tanti servizi La proposta di un laboratorio come quello della social room Inizialmente è partito un pochino zoppicando Ma poi ha preso il via Devo dire che nei territori più dell'interno Dove magari ci sono meno proposte La risposta dei ragazzi è entusiasta Sin dal primo momento Quindi c'è anche un po' di diversità Insomma tra la città e la collina E un'ultima cosa prima di passare a Laura Che dubbi hanno i ragazzi di oggi? Vi chiedono qualcosa di particolare? Qualche domanda? Devo dirti che in realtà ne sanno molto più di noi Rispetto ai social Per quanto ti dicevo Siamo formati molto bene Però ci siamo resi conto Che i social network Evolvono molto molto velocemente Per cui mentre noi consideriamo Youtube in un certo momento Come il social più diffuso tra i ragazzi Dall'incontro con loro Dai laboratori Riusciamo a conoscere le novità Quindi già sono cose superate Magari Esatto La velocità fa sì che loro siano Più al passo di noi Ma che noi possiamo mettere a disposizione loro Quelle che sono le competenze Sulla consapevolezza E la relazione Il giusto modo di lavorare E di vivere i social network Certo Laura parlavamo di social room Voi avete iniziato Nella parrocchia di San Paolo Postano al Vallato Esatto Degli incontri particolari Esatto Di che cosa si tratta? Se ci dici anche quanto dureranno gli incontri? Allora noi stiamo partiti Pensando a un sei incontri Ma molto probabilmente allungheremo La durata di questi La social room è una stanza Nella quale i ragazzi vengono Per parlare di social Ma non solo Affrontano tutte le tematiche Legate al mondo digitale Soprattutto anche i videogame E quant'altro È un mezzo per socializzare Per stare insieme Una possibilità Nella quale loro si possono ritrovare Parlando liberamente Essendo a volte anche loro Gli stessi esperti E avendo ovviamente Me e Andrea Come diciamo Regolatori Mediatori Di tutte le loro idee E quant'altro E hanno la possibilità Di osservare in maniera critica E funzionale Tutto quello che ci può essere Dietro anche agli stessi social Quindi di non assorbirlo passivamente Assolutamente Loro creeranno infatti E hanno già iniziato a creare Delle baccheche cartacee All'interno delle quali Portano le loro passioni I loro piaceri E da qui Partirà poi il progetto Esterno alla social room Che si propagherà nel quartiere stesso Anche da un punto di vista Di riqualificazione del quartiere Perché prima i ragazzi Con l'aiuto di un esperto Realizzeranno delle baccheche Da quello che abbiamo pensato Probabilmente su un supporto Più importante Che verranno poi esibite E mostrate alla cittadinanza Come mostra Interattiva E non solo Nel senso che i ragazzi Avranno la possibilità Di mostrare all'esterno Quello che hanno creato con noi Quindi è importante Che venga coinvolta Anche la cittadinanza Esatto C'è una restituzione Non solo per far vedere Cosa sono i ragazzi Ma soprattutto Quello che fanno E come lo fanno Da lì poi C'è anche un progetto Un pochino più ampio Dove vorremmo coinvolgere Il comune Per riqualificare Anche la piazzetta Del quartiere Nel ballato Esatto E praticamente Con l'aiuto di un writer Andare a vraitare Quindi i ragazzi Impareranno Come abbiamo fatto Anche a Sant'Urso Imparare a vraitare E andare sul muro Per lasciare una traccia Di se stessi Quindi Come si fa un pochino Nei ragazzi Si sta prima dentro casa Piano piano Poi si esce Perché gli adolescenti Fanno quello Incominciano a interagire E il progetto è proprio questo Lavorare da un punto di vista sociale Farli vedere Mostrare Farli uscire piano piano Magari dalla social room Che è un luogo Protetto All'un luogo più aperto Dove tutti Possono venire Interagire E stare Esco un attimo Dall'ambito Dell'unità di strada Magari faccio una domanda Più a livello Da psicologi Psicoterapeuti Che ruolo hanno i genitori In tutto questo? Allora Il ruolo dei genitori È centrale È molto importante Il loro coinvolgimento Infatti L'unità di strada Prevede anche Delle iniziative Degli incontri Con dei genitori Ne abbiamo fatto uno Questa settimana Ad Orciano Ne abbiamo degli altri In programma Da calendario Da qui alla fine dell'anno E il fatto che anche I genitori siano consapevoli E siano partecipi Anche nel percorso Di crescita Di crescita dei ragazzi È molto importante Il progetto Della social room Infatti prevede Un incontro Una tappa Diciamo Intermedia Tra la social room E l'esterno Dove praticamente Vorremmo chiedere ai genitori Di partecipare Per aiutarci A preparare Queste baccheche È un po' Una restituzione Proprio per quello Che avranno realizzato All'interno della stanza Con noi Per portarli All'esterno E diventare loro Il veicolo Per comunicare Un qualcosa di nuovo E i genitori Vi chiedo Riescono ad essere Al passo con i tempi Questi nuovi social Queste nuove Diciamo Alcuni Oggettivamente Un po' di fatica La fanno Anche perché Come diceva anche Andrea I social vanno Ad una velocità Che anche noi stessi Che ci lavoriamo Facciamo veramente fatica A essere sempre Al tempo Dei ragazzi A ritmo con loro Però è anche vero Che si pongono In una maniera A critica Hanno voglia di discutere Hanno voglia di parlarne Ci fanno spesso domande Anche l'incontro preparativo La social room Dove sono venuti con noi Molti genitori Siamo riusciti proprio Ad affrontare Le tematiche legate Anche all'uso Dei social Cosa può essere giusto Cosa non può essere giusto E quindi il fatto Già di provare a porsi E di mettersi in discussione È importante È centrale Mi ricordate in ultimo I prossimi incontri Che farete al vallato? Allora Saranno tutti i giovedì Dalle 17 alle 19.30 E aspettiamo i ragazzi Che vogliano venire Anche solo una volta Per osservare Guardare Per capire magari Che cosa succede Che cosa si fa Spinti dalla curiosità Ben volentieri Non c'è un obbligo di frequenza Non c'è nulla Quindi libero al massimo Assolutamente Sì Bene Io ringrazio Laura Ringrazio Andrea Per essere stati con noi oggi Per oggi è tutto Vi ricordiamo che è possibile Seguire il nostro TG web Sul sito Fannodiocio.tv.it Grazie per essere stati con noi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti